ciao raga benvenuti o bentornati sul mio canale io sono eleonora ed oggi con voi siamo qui per il nostro solito appuntamento ho tirato su tutti i capelli perché è caldissimo e con tutte queste luci non riesco proprio a respirare ma spero di aver fatto una cosa decente ma siamo qui per non perderci il solito appuntamento settimanale degli acquisti delle uscite che la lidl in collaborazione con sieno con altre aziende ci propone bene ma prima di iniziare e vi faccio vedere tutto il bottino di questa settimana vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un mi piace e mi raccomando attivate la campanella così da rimanere aggiornati su ogni nuovo video mi raccomando e ci conto lo state facendo bene iniziamo prima di arrivare agli acquisti che ho effettuato alla lidl vorrei mostrarvi alcune cose che ho ancora qui da quando sono stata a milano che ho acquistato a risparmio casa come sapete io vivo in un piccolo paesino e non ho questo discount questo magazzino dalle mie parti così con federica ci siamo state ecco qua quello che ho preso preso proprio giusto indispensabile che mi ero dimenticato quello che mi incuriosiva allora va bene tre spazzolini perché eravamo io e i miei figli e mi ero dimenticati ho preso il era uscito mi sembra da poco il sunsic cocreation one minute wow ricostruzione intensiva perché io ho capelli molto stressati voi lo utilizzate fatemi sapere cosa ne pensare magari ci confrontiamo vi aspetto sul mio profilo instagram così da così scambiarci delle idee mi raccomando un voce leonora che cosa ho anche lo scontrino ma allora sono stata bravissima allora gli spazzolini li ho pagati 2 euro e 69 nulla lasciò per 12 centesimi ho preso il sunsic che era in offerta a 1 euro e 59 buonissimo ho preso come sempre il mio tanto amato da nella profumazione classica al prezzo di 1 euro e 69 buonissimo come prezzo poi federica mi parlava sempre benissimo del frank provost lo shampoo professionale questo qua nella colorazione dorata e tutto questo boccettone da 750 ml l'ho acquistata alla modica cifra di 3 euro e 99 sentiamo la profumazione raga buono speriamo di trovarmi ci bene ma la cosa che mi aveva più incuriosito era che stavo cercando questo gel detergente di equilibria all'aloe è al 98 per cento di origine naturale e l'ho pagato 5 euro e 50 ne ho sentito parlare veramente bene voi lo avete provato qualcuno sa come come per forma fatemelo sapere nei commenti raga ma la cosa o questo ecco ho terminato ma la cosa che più mi incuriosito passando tra gli scaffali c'era il dentifricio di white now si forever in collaborazione con giulia dell ellis guardate che carino questo c'era nella nello stand il disegno anche del dello spazzolino ma non era disponibile non so se era proprio non era stato creato oppure comunque io l'ho preso non l'ho ancora provato perché ce l'ho in uso altri e l'ho pagato comunque 2 euro e 49 quindi diciamo come un dentifricio qualsiasi voglio vedere all'interno la profumazione questo è il pack oddio si è un po distorto primario sentiamo la classico alla menta nulla di che però bene perché il dentifricio deve lavare i denti non deve fare altro non è che se fosse costato 10 euro non l'avrei preso però per curiosità ho voluto provarlo ma passiamo oltre raga si muore dal caldo io mi sto sventolando mamma è una cosa ho anche preso il momento meno opportuno per fare un video perché sono le 13 30 quindi sul caldo più assoluto ma non ne parliamo prendiamo il bottino e vediamo quello che la leader questa settimana ci ha offerto allora questi già ve li abbiamo fatto vedere allora sono passata da cinesi penso che non ve li avevo fatti vedere e avevo preso a un euro l'uno questi glitterini così per fare qualche make up particolari come avete visto uno giallo limone che l'altro rosa ben poi 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 sempre da lidl c'era in offerta di lice bagnoschiuma idra fresh per un euro e 49 raga non è nulla se ci pensate perché sono è un boccione da 750 ml buonissimo secondo me come prezzo poi sempre alla lidl che cercavo tantissimo perché mi incuriosiva c'era questo bagno doccia della no doccia di frescante fresh smoothies albicocca mango e latte di riso ha una profumazione meravigliosa saraga all'interno è proprio perlescente e mi incurio sembra di lavarsi mi dà l'idea non lo so ancora lo devo provare ma sembra colpa di frutta ora lo proverò e vi farò sapere poi la cosa che mi incuriosiva tantissimo erano queste questi braccialetti che possono essere utilizzati non so se vedete come braccialetti cavigliere per legare i capelli per allontanare le zanzare sono un pacco per i bambini e un pacco per gli adulti non so cosa cambi dice che è della linea zanzarella protection 30 braccialetti colorati con profumo sgradito alle zanzare sempre alla lidl ho trovato della linea ph bio latte dopo sole corpo rifrescante alla menta ho voluto prendere un latte perché mi dà l'idea che sia molto più assorbibile che lasci meno la scia sia questa di latte la menta proprio raga buonissimo come vedete sembra proprio un latte molto interessante ho qui le ultime cosine che è l'idea ci offre in collaborazione con la sien è una linea totalmente dedicata ai piedi e a me queste linee piacciono tantissimo perché è giusto prendersi cura anche di una parte del corpo che per il 90 per cento dell'anno quasi è coperta ma visto che io sono una che dentro casa cammina sempre scalza mi piace insomma vedere i miei piedi curati come potrebbe essere un po per tutti tutto l'anno la linea che vi sto proponendo io che si è ci ha proposto è composta da un deodorante spray al mentolo formula for long lasting fresh fit sentiamolo guardate che bella boccetta grande la colorazione molto simpatica 200 ml come vedete e raga sa proprio di mentolo è buonissimo i prezzi bassissimi si aggirano tra i due e tre euro come sempre tutte le cosine della sien e hanno e secondo me hanno una buona performance performance non si dice performano in maniera ottimale forse scusate la defaianza ma dico così perché la la linea vecchia che avevo provato dei piedi mi sta piacendo tantissimo è in uso al bagno e ogni volta che mi faccio un pediluvio insomma mi curo dei miei piedi la utilizzo e mi ci trovo benissimo proseguendo abbiamo una satin effect cream for glamorous skin quindi for shining and smoothing skin per una pelle quindi penso che vada utilizzata anche sulla caviglia come vedete a questa consistenza si spalma benissimo non lascia la scia e ha una profumazione delicata ma buonissima quindi da mettere anche su tutto il polpaccio per avere una pelle idratata e mi sembra molto molto idratante sta facendo bene il suo lavoro gli altri prodotti che sien ci ha offre in collaborazione con leader sempre per la linea dei piedi sono un cooling ice gel un gel ad effetto freddo per rinfrescare appunto i piedi ha proprio un odore fresco non so proprio quel gel a base di mentolo la consistenza è praticamente trasparente lo mettiamo di qua altrimenti e praticamente diventa acqua diventa acqua l'avevo messa un po troppo apposta me la sono strusciata comunque raga si assorbe subito effettivamente lascia questo rinfresca un po la parte del corpo dove viene applicato ottimo da provare vi farò sapere seguitemi su instagram ne parliamo l'altro è un food care è una schiuma penso allora attenzione contenitore allora è una schiuma per piedi e talloni secchi screvolati con urea e burro di karité uso agitare bene la prima dell'uso applicare sulla pelle pulita due volte al giorno massaggiare delicatamente applicare non applicare su pelle lesa questo è il pecc primario quindi deve essere shakerato ora farò un disastro lo vado a è proprio una schiuma che però mi sembra ma raga guardate si assorbe subitissimo di solito le schiume hanno perlomeno alcune tipologie ci mettono un pochino ma questa qui mi sta piacendo la proverò e vi farò sapere non ho piedi molto screpolati ma essendo da poco che sto utilizzando le scarpe aperte e ho fatto i piedi solamente una volta ho delle parti un pochino più disidratate lo andrò ad utilizzare e vi farò sapere pure di questa quindi questa è tutta la linea dei piedi dedicate ai piedi che si ci propone e secondo me raga è azzeccatissima il lancio di una linea per piedi in questo periodo dell'anno perché perché tutti ci prendiamo cura del volto e poi magari si vedono dei piedi che so vergognosi con non so delle crepette sono dei crateri cioè imbarazzanti invece con pochi soldi ci portiamo a casa dei prodotti così validi e andiamo a fare da solo il lavoro che dovrebbe che di solito ci farebbe un estetista logicamente non saranno perfetti però saranno curati e ben profumati ma siamo giunti e giunte alla fine passando per tornare a casa mi sono fermata a todis perché mi servivano due cose e ho preso le salvettine da per il senerino di daniele sinceramente io lo lavo sempre però se la notte ho bisogno ma in realtà lui la notte è difficile che si fa i bisognini addosso quindi però può servire sempre per pulire le manine quindi io le salvettine per i bambini le tengo sempre e sempre mentre tornavo a casa passando dalla mia parrucchiera ho preso il magnifico di non so di chi è questo prodotto qua magnifico raga mi ci trovo benissimo è ottimo ha una profumazione stratosferica bisognerebbe comprarlo solo per la profumazione il prezzo è giusto perché costa sui 13 14 euro e lo metto sui miei capelli sempre quando appena lavati scusate ma mi sono fatta il bagno appena lavati e lascia una profumazione quando disciogli i capelli proprio senti questo profumo che inebria proprio tutta la stanza quindi consigliatissimo ottimo 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 oddio raga perché non me lo metto a fuoco raga bricci di oggi comunque questo è avrete sicuramente capito ma questo è tutto raga io spero che il video vi sia piaciuto grazie per avermi tenuto compagnia io spero di aver tenuto compagnia e voi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e mi raccomando attivate la campanella che è importantissimo così da rimanere informati su ogni mio nuovo video mi raccomando raga venite a seguirmi pure su instagram vi aspetto raga io vi ringrazio spero che i miei acquisti vi siano piaciuti fatemi sapere nei commenti se avete acquistato qualcosa o siete interessate perché queste sono tutte uscite di lunedì quindi oggi che vedrete il video è mercoledì quindi ancora troverete tutto spero io vi ringrazio per la compagnia vi mando un bacio grande e vi saluto ciao raga ciao al prossimo video ciao ciao